Buona giornata a tutti. Voglio darvi una buona notizia in campo sanitario e sociale. È il secondo giorno che a Chieti città abbiamo zero casi positivi Covid. Come vi avevo detto in un precedente messaggio, nelle ultime settimane avevamo registrato una diminuzione progressiva e sensibile dei contagi. In questa settimana abbiamo avuto tre giorni fa due contagi, il giorno successivo uno e infine ieri e oggi a zero contagi. Sono molto contento di questo, significa che le abitudini dei cittadini sono conformi alle regole della prudenza e soprattutto che le vaccinazioni che si stanno facendo all'ospedale San Dissipo Iniziata e al Palauda stanno andando avanti bene e quindi ciò significa che sta aumentando il numero delle persone, dei pazienti immuni e il virus circola meno velocemente e in maniera meno patologica, tant'è che la maggior parte dei pazienti in quarantena sono ovviamente a casa. Come segno della speranza e dell'ottimismo ho voluto mettere questa piantina vicino a me, simbolo della primavera, simbolo della rinascita che deve essere per tutta la città e per tutti i miei cittadini, a cui va un augurio di vero cuore.